Se c'è il progetto, fare lavoro, fare reti sul territorio, trovare nuovi partners, lavorare per la riabilitazione dei detenuti dei, il nostro mercato istituzionale. Minuri noi? Mai, assolutamente. Uguali? Sì. Uguali anche in una borsa, in una shop, perché no? Siamo pronti alle sfide e a compararci con gli altri. Per cui che ben vengano sempre nuove iniziative e sempre nuove idee, perché non siamo venuti. Il senso del progetto che usa ampiamente è il mio proposito dell'Istituto di Pena, che è quello di fornire opportunità alla popolazione delle nuove. Perché no? Oggi ne si accomodano tante sfide e questa è un'ulteriore sfida per tutti quanti noi. Il senso del progetto è che la fondazione si lega a quella che è la sua missione, quindi sostenere e migliorare la qualità di vita del territorio di Monteprianza. E quindi quattro parole chiave, competenze, lavoro e pare opportunità per tutti. La minore è uguale, è uguale a dare e fare opportunità anche in questo caso a chiunque è sul nostro territorio. Ciao! 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 Grazie per la visione!